Eh no, così no, così no, devi già venire sul lanciato da lì, vedi come hai i piedi, se non ce lo fai, e parti da qua verso così, però la devi lanciare. Eh no, così no, così no, così dobbiamo correre, ma ci ha fatta qualcuno andare giù di là, ma che sta, come dietro lì? Aspetta, 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 tutta la sirindria. Devo abituarmi a arrangiarmi io perché con l'enduro mi abituo a arrangiarsi. No, 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 no.